Perchè l'hai fatto? Per scelta. Quindi credi nel libero arbitrio? Credo che alcuni di noi siano stati creati per scegliere. Ma perchè sono qui? Per curarmi immagino. Parlami della sera in cui sono morti i tuoi genitori. Vorrei uccidere tuo padre. Avevano solo bisogno di qualcuno che li liberasse. E da quando liberare essi non li uccidere? Dunque ci è riuscito. Follia è ripetere la stessa azione sperando che qualcosa cambi. I battiti sono accelerati di colpa. Quante volte hai ripetuto le stesse parole ai tuoi pazienti? A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti.